Britney Spears, troppo sexy anche in palestra Britney Spears, troppo sexy anche in palestra E i risultati si vedono, alletà di 35 anni, Britney sfoggia ancora un corpicino da tenager tutto pepe, e la sua criniera di capelli biondi è ancora la più invidiata dello star system Britney Spears, un esempio di motivazione fitness. Siete tristi, scoraggiate, avete già saltato tre settimane di palestra di fila e settembre sta per finire. Quello di cui avete bisogno è un po' di sana motivazione per riprendere il ritmo. Regalatevi otto ore di sonno, un buon caffè e poi sfogliate il Nevesfe ed Instagram di Britney Spears, è lei il punto di riferimento fitness a cui dobbiamo rivolgere le nostre preghiere di benessere. Basta guardarla mentre si allena con determinazione, passione e disciplina per capire che la cantante dà tutti i giorni il suo 120 in palestra. E con quale entusiasmo? Lasciamoci contagiare dalla sua energia travolgente e portiamo un po' di Britney dentro le nostre abitudini settimanali. Quello che conta è non perdere mai la motivazione e darsi piccoli obiettivi da raggiungere, piano piano, ogni volta. Per la sua ultima sessione di allenamenti social, Britney Spears si è infilata in un'abbronzatura da urlo e un bikini bianco con topa a triangolo, effetto iridescente, per mettere in mostra la sua carnagione piena e sana. Testa piegata da una parte, e eline impeccabile, e immancabile, e addominali scolpiti nell'ebano, Britney tiene le mani sull'elastico del pantaloncino da allenamento, spingendolo un pochino più in giù di quanto si dovrebbe, per mettere in mostra il suo ventre piatto e un piccolo tatuaggio sexy. Britney Spears, capriole e acrobazie per divertirsi con stile Britney Spears, madre di due bambini, si diletta ancora nelle capriole e nelle ruote. Sotto l'occhio attento del suo personal trainer, la cantante di Toxic libera la bambina che c'è in lei per dare sfogo alla sua energia che trabocca, invogliandoci a somigliarle almeno un pochino. E tra i video di fitness e le foto in palestra, sul suo Instagram spuntano anche le sue mille sfilate in giro per casa, le sue foto in abiti sexy e tantissime altre chicche tutte da gustare. Britney si sente bella, anzi, si sente una bomba, e la scelta dei minidress che mettono in mostra i suoi polpacci torniti, da accostare attacchi vertiginosi, sono più che mai azzeccate per renderla ancora un'icona di stile. Di recente, Britney ha pubblicato uno scatto insieme al suo idolo di sempre, Maria H. Ray, una delle artiste che hanno ispirato, sin dagli esordi, la biondina tutto Pepe che abbiamo visto per la prima volta sullo schermo quando non aveva nemmeno 18 anni, e con i codini ballava o ops. i Didi Taghain. Britney ha raccontato che tutt'oggi le piace dipingere in topless mentre ascolta le great stiz di Maria, nella quiete di casa sua.